Sventato nella notte a Modico, un grosso furto di rame dagli uomini del commissariato di polizia locale. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i militari hanno notato un autocarro stranemente parcheggiato in un campo tra fanghe e sterpaie, a poche centinaia di metri dai locali di un'innota impresa modicana detti dalla lavorazione della pietra. Gli immediati accertamenti che hanno consentito alla polizia di acclarare che l'autocarro, rinvenuto, era stato rubato a gel alcune settimane fa, facendo subito intuire che tale circostanza era certamente collegata alla commissione imminente di un altro reato. Subito sono stati effettuati dei servizi di appostamento finalizzati a rintracciare e bloccare soggetti che aspettavano le ore notturne per riprendere l'autocarro. Infatti, durante la notte una pattuglia della polizia ha notato in lontananza sopraggiungere di alcune autovetture che, a cortesi della presenza dei militari, hanno subito invertito la marcia, dileguandosi per le strade delle campagne a Modicana a forte velocità. A circa un chilometro di distanza dal luogo dell'avvistamento sono state rinvenute due autovetture abbandonate ed emel viventi che hanno continuato la loro fuga a piedi, favoriti dall'oscurità della notte. I malfattori avevano estratto svariati metri di rame rinvenuto da un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni all'interno della titta di lavorazione della pietra, già tagliato e ammassato all'interno di un campannone e pronto per essere trasferito sul mezzo rubato a gela. Il furgone rubato e gli arnessi necessari per tagliare i fili di rame rinvenuti all'interno dell'autocarro sono stati posti sotto sequestro. Il tempestivo intervento della polizia ha consentito di sventare un furto di centinaia di chili di rame che avrebbe fruttato ai ladri parecchie migliaia di euro. Purtroppo, nonostante il furto sia stato sventato, la ditta ha patito del grave danno economico a causa del danneggiamento del grosso gruppo elettrogeno e del taglio di cavi elettrici. Grazie per la visione!